ciao ragazzi e ragazze allora scome di nevo un poco di tempo voleva approfittare visto che domani devo scendere voglio approfittare per fare il video dei prodotti finiti che ho ripreso a fare in collaborazione con nancy make up nancy 58 vi metto il link nel giù nell'info box ciao tesoro allora io per mi sembra due mesi non l'abbiamo fatto più mi sembra dall'estate ora non mi ricordo e quindi vi faccio vedere i prodotti allora e quanto riguarda non sono non ci sono però non tengo prodotti di trucco queste cose qua perché comunque non truccandomi spesso quindi a me mi durano proprio tantissimo i prodotti allora faccio vedere vado a prendo quello che vi faccio vedere quello che tengo nelle busse allora questo bagnoschiuma della idra term allora con questo qui mi trovo benissimo con questa marca infatti mi piacciono stavo guardando gli inci questi sono gli inci e infatti questi sono gli inci e mi trovo bene questa qua e al muschio bianco però con tutte quasi le marche idra derma cioè mi trovo proprio tantissimo a parte che dura pure parecchio poi ora cerco di prendere ma tutti bagnoschiuma come altro bagnoschiuma che mi trovo tantissimo questi qui sono 750 ml questo qua questa marca qua il dermo il dermo medda all'olio di argan qua sta scritto che dice che sono senza parabeni però bisogna sempre guardare dietro l'inci diciamo che non è proprio c'è rispetto ad altri ad altri diciamo accettato diciamo così è così avete visto gli inci però per esempio non c'è il coco mio dea quindi alcuni 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 ingredienti non diciamo che con questo non mi fa allergia anche se io uso quello la della yves rocher questi questo quali questi quali usa più davide allora sempre ecco come vi dicevo della della idra derma che mi trovo mi trovo tantissimo ho preso quest'altro qua ha sempre all'olio di argan no no questo questo è all'olio di argan e questo è al muschio bianco perché poi è da dicembre che non che ti ne può conservati i prodotti per farli vedere infatti dove può buttare buttare pure le confezioni poi e poi allora e poi per quanto riguarda vediamo un po i prodotti allora poi ci sta questo il mio solito questo qua venus che sono troppo mi piace tantissimo questo i gini intimo e questo qua la malva poi questo dentifricio questo qua vabbè questo è normale dentifricio al fluoro questo qua io ne uso un altro e poi 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 allora poi è bassa per quanto hanno una donna perché si stanno mischiando i detersivi allora poi questo qua che questo lo uso proprio della idra vegetale gel detergente freschezza allora io mi trovo tantissimo anche se voglio provare quell'altra marca e questo mi è finito per penso già tri volte due volte mi finisce in un mese mi finisce comunque questo qua anche perché lo so solo io poi mi è finito questo questo qua di lavon e il talco che mi a me piace tantissimo il profumo della soft masca eppure mi è finito questo qua eppure mi trovo tantissimo poi confondendo con i prodotti allora poi ho finito il latte detergente è cascato tutto il sapone allora della della delicato della vivi verde diciamo che io lo comprai infatti questo mi è durato proprio tantissimo però l'ho voluto finire però non è che lo ricomprerei sinceramente questo qua poi è cascato tutto il sapone mannaggia allora poi mi sta finendo questo qua che aiuto ma non è andato a il sapone sopra lo shampoo di unica che io senza questo shampoo non riesco a passare e metto qua ecco si è versato tutto il detersivo allora questo detersivo per i piatti che pagai 69 centesimi l'ho preso alle md è troppo troppo bello mi piace pure di più del nelson perché vedo che il nelson e ne consumo di più invece questo mi è durato proprio un mese e 15 giorni a parte che fa schiuma mi trovo si chiama dat 5 profuma ma poi dura tantissimo perché ne metti poco poco e fa un sacco di schiuma e leva e sgrassiante veramente come sta scritto qua infatti ora che vado da mia sorella monica ve ne voglio pigliarne una scorta perché costa pure poco 69 centesimi all md e sono mi sono 1250 ml forse perciò dura pure di più di un mese perché comunque assai rispetto all'altro poi quest'altro qua che ho provato sempre detersivo non mi piace proprio questo è diciamo è un normale detersivo per i piatti costa un euro a tutti questi così qua che vi ho fatto vedere costavano un euro oppure quelle dell'idra derma pure questo qua della quest'altra marca dermomed questo pure costa un euro questo è normale ma non lo ricomprerei avendo scoperto questo sinceramente mi piace molto questo del md poi prima usavo questi altri cosa ho usato questo che mi ricordo che però non mi piace perché pensate che in un mese ne ho consumati tre talmente che non puliva è come se non c'è è come se come se faceva solo schiuma però non sgrassava il piatto e quindi di detersivo eri costretto a metterne molto di più quindi questo qua per me super promosso questo dat 5 veramente buonissimo infatti vi ho detto mi farò l'ascolta poi mi è finito allora mi sono finiti aiuto quanti di quanti detersivi dovevo far vedere allora mi è finito quest'altro detersivo della fm mamma mia vi dico che questo qua veramente è buonissimo a parte mi è durato un sacco di tempo che costa sui cinque sei euro ma veramente mi è durato tantissimo non lo so quando mi è durato quattro mesi cinque mesi ma comunque il lavandino il bagno io l'ho usato per il bagno ve lo fa bianco proprio sembra che è come se veramente come se secondo me risparmi un sacco ma un sacco di soldi cioè veramente risparmi un sacco di soldi e quindi questo qui è promosso un'altra cosa sempre della fm e questo qua per il bagno questo qua invece sinceramente quello la per fare il bagno dentro al bagno sinceramente questo qua infatti li ho distrutti questo qua non lo ricomprerei però questo 15 è promossissimo questo qua questo mi piace troppo e basta ora li levo tutti questi cosi mamma mia quante cose dovevo buttare è perché quasi sono fatti tutte queste cose allora e poi sempre della e no e basta ho finito pensavo che dovevo far vedere qualche altra cosa e niente non è che chissà quanti prodotti solo la maggior parte sono tutti detersivi che stanno tutti in questa busta qua e niente ragazze mando un bacio a nensi ciao nensi ora vengo a vedere il tuo video un bacio tesoro ciao ciao a tutti ragazze